Dottoressa Sannino, Presidente regionale dell'ANMIL, a conclusione di questi tre giorni di Napoli, l'Ausso di Sicurezza, qual è il messaggio finale che possiamo dare? Sì, allora intanto io ci tengo a ripetere, la nostra associazione è l'ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro. E noi come ANMIL oggi celebriamo le vittime degli incidenti sul lavoro, ma soprattutto vogliamo ricordare a tutti che è vero, si parla di prevenzione e se ne deve parlare. Si parla di sicurezza e noi ne dobbiamo parlare, ma soprattutto dobbiamo anche ricordarci di tutte le vittime e non solo le vittime, ma di superstiti. Non dobbiamo dimenticare le vedove, non dobbiamo dimenticare gli orfani, che ancora oggi sono tante, ma tante tante, le famiglie che vivono questo dramma, sole e abbandonate dalle istituzioni, perché la maggior parte in questi casi sono persone che hanno avuto il decesso dei propri cari, ma non hanno avuto il sostegno opportuno, adeguato, sia da un punto di vista previdenziale, sia da un punto di vista economico. Quindi sono famiglie abbandonate loro stesse, che vivono il loro dramma e non solo piangono il proprio dolore, ma vivono anche le difficoltà della quotidianità. E noi come ANMIL vogliamo ricordare che siamo vicino a queste famiglie, abbiamo una nostra struttura fatta di psicologi e psicoterapeuti che sono disponibili e sono gratis a 365 giorni all'anno come sostegno, perché il sostegno è fondamentale per avviare le famiglie che vivono il dramma all'improvviso di avere un proprio cario, all'improvviso non averlo più. Io sono la testimonianza di una donna che a 30 anni è rimasta vedova con tre figli. Io ho trovato grandi, grandi difficoltà. Io ho trovato l'ANMIL che mi è stata vicina, come sostegno, supporto e tutto quanto. Quindi io invito tutti quanti che hanno difficoltà a mettersi in contatto con noi www.anmil.it, abbiamo un numero verde, ci possono contattare gratis, sia da fisica che dai cellulari, per avere un sostegno. Noi tutto quello che possiamo fare lo facciamo, perché vicino alle famiglie ci siamo tutti i giorni e ci crediamo. E io, ripeto, da vittima, da moglie e oggi i miei figli che sono grandi e che vivono ancora questo dramma, lo vivono ancora e lo ricordano, in questi momenti oggi mio figlio è qui, ci ha accompagnato, perché lui ritiene che è opportuno dare testimonianza e noi questo vogliamo fare, vogliamo dare testimonianza nel concreto. E oggi pomeriggio ne abbiamo Scuba Libre che ci ha dedicato un brano. Io mi emoziono perché sento che se ne parla ancora troppo poco e noi abbiamo bisogno invece di far diffondere la sensibilità e la cultura della sicurezza, ne abbiamo profondamente bisogno e dobbiamo fare ancora di più e sempre di più per parlare ai piccoli. Quello è il vero investimento, parlare ai piccoli per arrivare a avere una consapevolezza per quando saranno grandi e insistere sugli imprenditori perché la sicurezza la vivono come un impegno serio, come un investimento per non avere poi situazioni di questo tipo, perché se ne parla ma poi alla fine siamo sempre i punti a capo.